Ciao a tutti ragazzi, è l'ora di ritirare fuori i vostri arcade stick ed essere pronti a combattere per la Mortal Kombat Cup che passerà da Bari questo sabato, il 18, presso l'Euronics dell'HyperCoop di Santa Caterina a Bari. Sabato infatti avremo l'occasione di fare tantissime partite insieme su Mortal Kombat X su PlayStation 4, ma cosa più importante è la Coppa, cioè il campionato di Mortal Kombat. Infatti chi vincerà questo torneo avrà accesso al campionato italiano e chi vincerà il campionato italiano andrà al Japan Expo il 3 luglio in Francia, a Parigi, per partecipare appunto ai campionati mondiali di Mortal Kombat. Quindi ragazzi, se volete venire a riempirmi di botte, su Mortal Kombat si intende, ma soprattutto partecipare al torneo che vi consentirà di accedere, nel caso siete vincitori, alle fasi successive per arrivare poi al Japan Expo al Gran Finale, l'appuntamento è sabato 18 all'Euronics dell'HyperCoop di Santa Caterina a Bari. Tutte le info dell'evento e soprattutto del regolamento per partecipare, ovviamente per iscriversi, lo trovate qui sotto in descrizione. Io non so quanto potrò fare, però il mio allenamento parte oggi. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo sabato. Ciao!